Non c'è pace per l'Ama, l'azienda di trasporto pubblico locale del Comune, e oggi con il referendum della sera è il giorno della verità. Dopo l'accordo raggiunto per Ama sulla contrattazione di secondo livello, ci sono però delle frizioni tra i lavoratori, in particolare tra quelli assunti prima del 1999 e quelli assunti dopo. I primi, in pratica, non vogliono perdere alcuni privilegi, così i sindacati, che cercano di trovare un punto di incontro per il referendum e con una nota interna, indirizzata ai lavoratori, firmata da alcune sigle sindacali, invitano i dipendenti Ama, appunto al buonsenso sostanzialmente, invitando gli assunti pre-99 a non pensare alle proprie posizioni personali, pena il rischio di vanificare quanto raggiunto finora. In questo quadro entra una gamba tesa, però con una nota, pure i lavoratori Ama, assunti invece dopo il 1999. La città, scrivono in una lunga lettera, si è fatta carico di salvare l'azienda, Noi abbiamo cercato in quest'ultimo mese, attraverso le nostre rappresentanze sindacali, un nuovo accordo aziendale che normasse e regolasse il lavoro. Ipotesi sottoposta al referendum. Noi lavoriamo convintamente perché quell'ipotesi divenga il nostro nuovo contratto aziendale. Non ci stiamo a lasciare ad alcuni dei nostri colleghi un racconto parziale. Noi abbiamo bisogno di quell'accordo. Non abbiamo lottato per poi farci ricattare dall'ingordigio di una parte di nostri colleghi, abituati a una condizione di privilegio difficile da spiegare al di fuori delle mura di Ama e S.P.A. Questo l'affondo durissimo. Per questi lavoratori, infatti, la minaccia di vertenza è inaccettabile e rischia di mettere a rischio la sopravvivenza dell'azienda, come dicono pure i sindacati. Per i sindacati la condizione in atto in questi anni è stata di una divisione legata a trattamenti economici e normativi derivanti da vecchi accordi sbagliati e che hanno generato salari ingiustamente diversificati. L'obiettivo del nuovo accordo aziendale, fanno notare le sigle sindacali, è stato proprio quello di ripartire le ridotte risorse cercando di avere una condizione equa e giusta e uguale per tutti.